Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV e ben trovati a questa prima edizione del nostro notiziario di oggi che apriamo come sempre con la pagina dedicata agli aggiornamenti su questa epidemia di coronavirus tra nuovi contagi e poi il tema importante delle vaccinazioni. Allora iniziamo con i numeri che nella giornata di ieri hanno visto ancora un numero importante di nuovi positivi anche se inferiore rispetto ai giorni precedenti e purtroppo un nuovo aumento delle persone ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. Nella giornata di ieri sono state rilevate 578 positività al covid a fronte di 6.962 tamponi con un indice di positività ancora elevato 8,30 per cento. Ci sono stati anche 15 decessi e poi vediamo il numero delle terapie intensive 81 i pazienti covid in area critica 1 in più mentre risultano essere 596 32 in più i malati covid ricoverati negli altri reparti degli ospedali regionali. Le persone in isolamento ad oggi sono 15.468. Da inizio epidemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al coronavirus 91.655 persone. Intanto prosegue la campagna di vaccinazione dovranno essere recuperati i ritardi accumulati nei giorni scorsi con lo stop all'utilizzo del vaccino AstraZeneca mentre mentre prosegue potremmo dire senza sosta la vaccinazione degli over 80. Ieri a Codroico è stato aperto il punto di vaccinazione di massa. Le vaccinazioni proseguiranno anche nella giornata di oggi e allora andiamo a sentire le parole di Borghi che ci spiega come funziona proprio il procedimento e come sono state organizzate le postazioni per garantire mille vaccinazioni al giorno. Sentiamo. Ecco questo è diciamo il nostro modello che presuppone in un centro vaccinale tipo la possibilità di organizzare il tutto a settori e ogni settore viene sostanzialmente dedicato a una funzione. Come vi dicevo prima ci sono dei settori dedicati alla mera accoglienza, poi ci sono dei punti di controllo per quanto riguarda la documentazione che è un altro passaggio delicato, poi passiamo alla fase dell'inserimento dei dati e quindi attraverso otto postazioni e poi passiamo all'area vera e propria, quella, il core che sono i box vaccinali e poi abbiamo l'area di attesa post vaccinale che noi diciamo è un'osservazione clinica in cui andiamo a riscontrare se lo stato di salute del nostro utente dopo la vaccinazione. In genere la popolazione anziana non ha grandi problemi e questo diciamo ci garantisce il fatto di poter avere tutto il materiale necessario per eventualmente intervenire. Come vi dicevo queste strutture non si possono banalizzare perché si tratta sempre di un'attività sanitaria quindi la presenza di medici, infermieri ci consente di lavorare in sicurezza perché è l'altra cosa che non bisogna mai dimenticare, lavorare bene, lavorare con qualità e sicurezza e quindi diciamo questo è un altro degli obiettivi che un servizio sanitario deve fare, dimostrare di saper lavorare in sicurezza e dare fiducia alle persone, quindi le persone devono essere accompagnate in questo percorso che è rilevante e noi speriamo che i messaggi che escono dalla popolazione vaccinata siano anche di attrazione per tutte quelle che sono le persone che in questo momento dubitano sull'efficacia dei vaccini o delle vaccinazioni. E a proposito di vaccinazioni questa mattina sarà anche sottoscritto l'accordo tra la regione e le università per l'utilizzo degli specializzanti in medicina proprio nella somministrazione dei vaccini. Intanto nel nostro paese nell'ultima giornata, nell'ultime 24 ore ci sono stati 20.159 nuovi positivi al coronavirus a fronte di 277.086 test con un tasso di positività che risale al 7,2%, sabato era al 6,7%, 300 le vittime. Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 61 in più nell'arco delle 24 ore, nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone con un incremento di 423 unità. Al momento ci sono in Italia 571.672 positivi, un numero ancora in aumento rispetto alla giornata di sabato 6.219 in più. E il virus corre, corre anche in Europa con alcuni paesi come la Gran Bretagna in cui il numero delle vaccinazioni ha raggiunto dei livelli davvero importanti, metà degli adulti vaccinati in Gran Bretagna. Per quanto riguarda i contagi nel vecchio continente c'è stato un aumento dei contagi del 34% in tre settimane. Allora sentiamo il prossimo servizio che ci fa il punto sulla situazione Covid in Europa. Nella primavera del 2020 l'Europa era costretta a lockdown per difendersi da un nemico ancora poco conosciuto. Un anno dopo c'è l'arma dei vaccini, ma le dosi in circolazione sono ancora troppo poche per arrestare la pandemia. Tanto che la terza ondata, alimentata dalle varianti più aggressive, ha provocato un aumento dei contagi del 34% in tre settimane, costringendo i paesi dell'Unione Europea a richiudere. In Gran Bretagna, al contrario, il peggio sembra passato, metà della popolazione adulta è già stata immunizzata e il problema principale delle autorità sembra essere contenere l'eccesso di euforia dei britannici. Nell'Unione, invece, la campagna di vaccinazione stenta a decollare, tra i dettagli e le consegne delle aziende farmaceutiche ed il blocco temporaneo ad AstraZeneca a scopo precauzionale che ha fatto perdere altri giorni preziosi. Tanto è bastato alla temibile variante inglese per diventare predominante nel vecchio continente, facendo risalire la curva dei contagi. In Italia e in Francia, numeri che non si vedevano da mesi, con gli ospedali che hanno ripreso a riempirsi. Così, mezza Italia è diventata zona rossa, mentre in Francia il confinamento è stato allargato nel nord e nelle regioni di Parigi e Nizza. In parziale confinamento, pure la Polonia soffre anche la Germania, dove gli esperti hanno stimato una crescita esponenziale del virus, avvertendo che le auspicate riaperture devono attendere e, anzi, si rischia di dover fare addirittura marcia indietro. Continuiamo a parlare di sanità, perché c'è una presa di posizione oggi della CGL. Non è scaricando le responsabilità sulle aziende che si risolvono i problemi della sanità regionale, incluso quello degli straordinari, che non riguarda soltanto il loro mancato o tardivo pagamento, ma anche l'eccessivo ricorso che se ne fa. A dirlo è la segretaria regionale della funzione pubblica della CGL, Orietta Olivotto, rispondendo a un tweet dell'assessore alla salute Riccardi, in cui lo stesso Riccardi ha chiamato le aziende sanitarie al pieno e puntuale pagamento degli straordinari. Nel 2020, ha detto Olivo, il sistema sanitario regionale ha viaggiato a un ritmo di un milione di ore all'anno di straordinario tra il personale del comparto. È una situazione insostenibile e l'assessore lo sa bene. Questo gioco allo scaricabarire, un giorno sullo Stato, quello dopo sulle aziende, non può reggere. E i risultati si vedono tutti. Il numero dei contagi, dice ancora Orietta Olivo, più alto in Italia, non è frutto di sola sfortuna. Chi governa la sanità è stato travolto da questa terza ondata e ha portato con sé il sistema. Rimanendo in ambito sindacale, la filiera di Amazon incrocia le braccia oggi il primo sciopero contro il colosso americano. In Friuli Venezia Giulia sono coinvolti almeno 400 lavoratori, in buona parte driver, che ruotano attorno ai due centri di Fiume Veneto, Esgonico e al magazzino di Colugna. A indire la protesta per l'intera giornata, le segreterie nazionali dei sindacati di categoria, Filt CGL, Filt CISL e Will Trasporti, dopo l'interruzione della trattativa sul contratto di secondo livello della filiera Amazon. Le richieste dei sindacati sono la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro effettivi, la contrattazione dei turni, un corretto inquadramento, le clausole sociali per il mantenimento del lavoro in caso di cambio del fornitore, l'indennità per il rischio Covid e per gli eventuali danni e poi ancora i criteri di stabilizzazione per i precari. Siamo alla cronaca adesso con una operazione della Guardia di Finanza di Treviso, un'operazione denominata in codice giallo-oro, un'operazione nel settore del contrasto al traffico internazionale di prodotti petroliferi prelevati da raffinerie dell'Est Europa e destinati al mercato italiano. Nel corso di diversi interventi eseguiti negli ultimi mesi lungo le arterie autostradali che collegano il confine orientale al resto del paese, la Guardia di Finanza ha denunciato 35 persone, 31 stranieri e 4 italiani, questi ultimi residenti tra le province di Mantova, Napoli e Catania, arrestandone due in flagranza di reato. I reati contestati sono il contrabbando di gasolio e l'irregolarità nella circolazione di veicoli dedicati al trasporto di prodotti petroliferi sottoposti ad accise. Sono stati sequestrati beni per oltre 1.700.000 euro, tra cui 8 motrici, 15 semirimorchi, un distributore clandestino e 340.000 litri di gasolio. I successivi sviluppi delle indagini hanno poi consentito di accertare il consumo in frode sul territorio nazionale di 1.800.000 litri di gasolio e l'omesso versamento di accise per oltre 1 milione di euro. Il gasolio, trasportato all'interno di cisterne autoarticolati, spesso privi dei requisiti minimi di sicurezza, proveniva da raffinerie ubicate in Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria e Austria. Allo scopo di eludere i controlli veniva dichiarato come solvente o liquido anticorrosivo. Dalle analisi chimiche è emerso, invece, che era composto per il 70% da gasolio e per la parte residua da olio vegetale. Era inoltre accompagnato da documenti sui quali figuravano destinazioni fittizie come Grecia, Malta e Spagna. E adesso parliamo invece dell'acqua, un bene molto prezioso per la sopravvivenza del nostro pianeta a cui è dedicata la giornata di oggi, giornata mondiale dell'acqua. E in regione, quando si parla di acqua, si pensa molto ai fiumi, al fiume Tagliamento in particolare, cui oggi il consorzio del prosciutto di San Daniele ha pensato in modo particolare in questa giornata mondiale dell'acqua. E' da di questo che parliamo con la nostra truppa esterna, con Luciana Idelfonso, che si trova proprio a San Daniele. Luciana, buongiorno, a te subito la linea. Sì, buongiorno Angela. Ci troviamo proprio all'interno del consorzio per parlare di questa giornata, come anticipavi, importantissima, dedicata al fiume Tagliamento. Fiume Tagliamento, che influenza in qualche modo una delle prelibatezze della nostra regione, proprio il prosciutto di San Daniele, creando un microclima veramente particolare. Quindi a valorizzare come l'acqua è un fiume come questo, dalle grandi tradizioni anche storiche, influenzino tutt'oggi anche uno dei prodotti di punta della nostra regione. Ne parliamo insieme al direttore del consorzio, per chiedere subito come mai avete deciso in questa giornata così importante per l'acqua di attivarvi anche poi a livello, diciamo così, pratico, anche per evitare i consumi di acqua e gli sprechi dell'acqua. Beh, diciamo che il prosciutto di San Daniele, essendo una denominazione di origine protetta, è fortemente condizionato dallo stato ambientale che ci circonda. Quindi l'ambiente è fondamentale, è uno degli ingredienti del nostro prodotto. Da sempre abbiamo privilegiato l'attenzione al luogo in cui stiamo, e l'ambiente nel quale viene fatto il San Daniele. La zona è molto piccola perché ha i 20 chilometri circa di diametro il comune di San Daniele e i prosciutto di fici sono proprio prospicenti al fiume Tagliamento perché dove si trova la zona, diciamo così, artigianale, industriale, è proprio vicino al fiume. Quindi questo è un elemento importante dal punto di vista climatico e anche produttivo. Dal punto di vista invece dell'etica, da sempre il consorzio si è attivato per evitare che il suo impatto sull'ambiente in cui insistiamo sia bassissimo. Da oltre 30 anni si viene coordinata la depurazione delle acque di prosciutto di fici che sono aziende a basso tasso di inquinamento, ma va gestito il sale perché ovviamente il sale altrimenti si disperde nelle acque reflue. E da sempre abbiamo gestito la depurazione dei prosciutto di fici. Recentemente, negli ultimi sei anni, abbiamo potenziato il nostro sistema di depurazione consentendo quindi anche una più efficiente gestione degli scarichi. Non solo dal punto di vista di quello che si scarica, ma anche da quello che si preleva. Cioè usare l'acqua giusta che serve per sanificare e ripulire le aziende. È ovvio che essendo un'industria alimentare la priorità è quella dell'igiene e della sicurezza sanitaria, quindi i lavaggi vanno fatti e c'è un presidio molto importante da questo punto di vista nelle nostre aziende, però anche in questo caso le risorse vanno usate con misura e in misura corretta per non sprecarle. Già da un po' si parla di patrimonio dell'UNESCO per il fiume Tagliamento. Secondo lei perché potrebbe avere tutte le carte in regola per diventarlo? Beh, non lo dico io, lo dicono gli studiosi. È rimasto l'ultimo fiume alpino selvaggio, quindi senza opere che lo contengono a livello europeo. Questo sviluppa la biodiversità, ha tutto un apparato ecologico e biopico che lo circonda, che è importante, quindi non è solo un fatto paesaggistico, ma è un fatto proprio, diciamo così, di natura, di sostenibilità, di inserimento degli uomini nel contesto naturale. Quindi ci sembra scontato, oltre ad essere un fiume bellissimo, è un fiume che è gestito meglio dal punto di vista anche della sicurezza, soprattutto nella parte a valle del suo corso, si potrebbe diventare anche con una migliore coesistenza con i cittadini che abitano sulle sue rive. E allora questo è l'auspicio, che il tagliamento diventi presto patrimonio dell'UNESCO, come avete sentito, un elemento d'acqua fondamentale per il territorio collinare da tanti punti di vista. Con questo auspicio Angela ti restituisco alla linea, a voi. Grazie a Luciana Idelfonso per questo contributo da San Daniele e del Friuli. Adesso noi ci spostiamo a Udine, in via Gemona, dove sono iniziati i lavori per il rifacimento della pavimentazione in Porfido tra le vie Deciani e Santa Chiara e Piazzale Osoppo. Il tratto sud è già stato recuperato lo scorso inverno. Nella prima fase dei lavori, ha spiegato il vice sindaco Loris Michelini, andremo a chiudere il tratto compreso tra l'incrocio e il civico 37. I marciapiedi rimarranno comunque sempre percorribili. Il sottofondo della strada, ha spiegato ancora l'assessore ai lavori pubblici, verrà realizzato in misto cemento e una volta finita la posa, le fughe verranno sigilate con la resina, che ha già dato prova di un'ottima tenuta in altre vie della città. Ci auguriamo che la primavera ci riservi sempre tempo soleggiato, ha detto Michelini, perché per la posa della resina il fondo deve essere perfettamente asciutto. In caso contrario, i lavori potrebbero subire qualche giorno di ritardo rispetto alla data dell'8 maggio, prevista per il termine del cantiere. Una volta completata la posa della resina, sarà necessario attendere prima dell'apertura un altro periodo di sette giorni per il transito delle auto e di due giorni per i pedoni. E questa mattina Monica Nardini è andata proprio in via Gemona per raccogliere alcune voci dei residenti in zona sulla via del cantiere. Come affronta questi lavori? Sarà un problema per venire in farmacia, in panetteria e dal giornalaio. Cercheremo di parcheggiare in altre zone, tipo la zona andando verso Piazza Primo Maggio e poi verremo a piedi. Però ovviamente il problema del parcheggio penso che si forrà. Però se i lavori sono da fare li faremo. Speriamo che siano invece altrettanto veloci, come hanno stati veloci a deciderli, che siano altrettanto veloci a eseguirli, tutto lì. Magari anche ritinteggiare, se mi consente, le strisce anche. Già che ci sono finiti i lavori, che rifacciano tutto quello che è la viabilità, perché in effetti era un po' carente, tutto lì. Lei da titolare anche di questo esercizio nella via, come commenta dunque l'avvio di questi lavori? Beh, guardi, la ristrutturazione comunque della via di Via Gemona penso sia un vantaggio anche per tutte le attività commerciali che ci sono. Ovvio, magari un mese di lavori è un po' lungo per il passaggio pedonale, insomma, visto che sarà bloccato. Però avere il vantaggio nel futuro di essere rimesso a nuovo può essere una cosa molto positiva, ecco. Lei vive in via Tibario Deciani, signora. Come commentiamo dunque l'avvio di questi lavori per la risestimazione del manto stradale di Via Gemona? Beh, io sono contenta. Quindi è pronta, insomma, ad affrontare qualche disagio nella circolazione? Ma certo, per forza, perché quando si fanno i lavori, per forza ci sono dei disagi. Siamo arrivati adesso alla pagina sportiva. Si è concluso dopo cinque partite il periodo di imbattibilità dell'Udinese che ieri contro la Lazio ha perso per 1-0 alla Dacia Arena. Una partita, quella contro i biancocelesti, non del tutto negativa, ma che ha fatto capire che l'Udinese deve ancora fare il definitivo salto di qualità. Adesso c'è la sosta, ma dalla ripresa alla fine della stagione i bianconeri dovranno provare a dosare di più. Sentiamo il servizio di Alessandro Surza. Ci sono partite che bisogna assolutamente vincere, partite che non si possono assolutamente perdere. E poi ci sono quelle partite non decisive, che però possono farti capire a che punto sei nel tuo percorso di crescita. Ecco, per l'Udinese, che ha una classifica tranquilla, quella contro la Lazio è una partita del terzo tipo non decisiva, ma è importante per capire a che punto sono i bianconeri. E il campo ha detto che depo le compagni non sono ancora grandi, no perché ieri la squadra non sembrava avere quella cattiveria agonistica e quella voglia di spaccare il mondo che hanno le squadre. Di un certo tipo poteva finire tranquillamente in pareggio, viste le occasioni avute dai bianconeri, è vero, eppure la Lazio è sembrata più cattiva, più determinata, nel voler vincere una partita che è stata decisa da un dettaglio, ovvero dalla disattenzione del pacchetto difensivo dell'Udinese, che ha lasciato liberissimo Marusic di colpire e che su quel dettaglio è finita. Certo, il palo di De Paul grida vendetta, così come l'occasione è capitata a Larsen, ma è apparso evidente che l'Udinese sia stata attendista, troppo attendista, quando invece poteva e doveva probabilmente osare di più. Ma il bicchiere non può essere visto soltanto mezzo vuoto, perché comunque gli avversari si giocavano la possibilità di inseguire il treno Champions e non potevano sbagliare, è perché il blasone della Lazio è noto a tutti e l'Udinese non è stata affatto inferiore ai biancocelesti e se ci si rammarica per una sconfitta contro la Lazio, che nell'economia di un campionato può assolutamente starci, vuol dire che ormai la squadra ha acquisito consapevolezza della propria forza e da qui adesso si dovrà ripartire, perché dopo la sosta l'Udinese andrà a Bergamo ad affrontare l'Atalanta, la banda Gotti adesso deve fare un altro passo in avanti, da qui a fine stagione deve usare di più senza accontentarsi. Adesso andiamo a vedere con l'aiuto della grafica tutti i risultati di questa ventottesima giornata di campionato, iniziata con la vittoria del Genoa sul Parma per 2-1, poi la vittoria del Bologna sempre in trasferta, Crotone per 3-2, lo Spezia ha battuto il Cagliari per 2-1, il Verona ha perso in casa contro l'Atalanta per 0-2, sconfitta casalinga anche per la Juventus contro il Benevento 0-1, la Sampdoria batte il Torino per 1-0, l'Udinese ha perso contro la Lazio per 0-1, sconfitta casalinga della Fiorentina per Mano del Milan che passa per 3-2, anche la Roma perde in casa battuta dal Napoli per 2-0, Inter Sassuolo è stata rinviata. La classifica vede ancora in testa l'Inter con una partita in meno a 65 punti, il Milan a 59, la Juventus a 55 assieme all'Atalanta, Napoli 53, Roma a 50, Lazio 49, Sassuolo 39, Verona 38, Sampdoria 35, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina, Spezia e Benevento 29, Torino 23 punti, Cagliari 22, 19 per il Parma, chiude la classifica al Crotone con 15 punti. E passiamo al basket adesso, è stata una domenica bella ed emozionante per la palla canestro Udine che ha battuto Orzinuovi in trasferta per 77 a 76, il sorpasso con un canestro di Johnson quasi sul fil di Sirena. Allora andiamo a sentire le parole di coach Boniccioli al termine della gara. La cosa importante è che la squadra oggi ha lottato, ha lottato per rispetto nei confronti di chi si è fatto male per giocare per noi come Federico, ha lottato perché c'è la consapevolezza che stiamo facendo un grande lavoro, non avrebbe senso sprecarlo con delle facce, con dei musi, con delle cose. Sono contento della prestazione di tutti, ma fatemi parlare di due giocatori, anzitutto di Francesco Pellegrini, che io soltanzialmente insulto per tutta la settimana, inizio e alla fine, ma non perché li voglio male, semplicemente perché penso che un giocatore di 2-14, col suo cui cestistico e con le sue mani, possa rendere di più di quello che sta rendendo il fine a questo momento. E questa sera è stato un elemento fondamentale della vittoria, perché tra lui e Nana Fullan, sotto canestro, abbiamo sempre avuto una presenza molto importante, però se da Nana Fullan possiamo aspettarci, perché è il miglior lungo del campionato, Francesco ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. La seconda, Nazareno italiano, che dopo un periodo lungo, di buio, si è risvegliato da un periodo di torpore, proprio nel momento in cui la squadra aveva bisogno, sopperendo anche con punti, perché i 15 punti che non ci ha dato Federico Mussini oggi, che sono quelli che si dà abitualmente, ce li hanno dati Vittorio e Nobile con una tripla importante, due tiri liberi molto freddi nel finale, quando Nazza si è rirotto il naso, Nazareno e Francesco. Quindi speriamo che questo sia un segnale, non soltanto di una compattezza di squadra e di una qualità del lavoro che ogni tanto, viva il Dio, emergono, ma anche di un cambio di rotta rispetto a una stagione che fino a questo momento non ci ha proprio detto che siamo fra le più fortunate e l'ottima. E questo pomeriggio alle 16.30 vi riproporremo la gara della Pallacanestro Udine, vediamo con aiuto della grafica tutti gli appuntamenti principali di oggi, alle 16.30 dunque Orzi Nuovi contro Udine, noi ci rivediamo alle 12 con la prossima edizione live del nostro TG, l'informazione in diretta anche alle 16, alle 19, alle 22.30, alle 20.30 le cronache dal Veneto e poi come ogni lunedì ampio spazio anche al calcio, alle 15 con la diretta del pomeriggio calcio e poi questa sera alle 21 con Udinese Tonight. È davvero tutto per il momento, vi lascio alle previsioni del tempo e ci rivediamo più tardi. Un saluto ben ritrovati agli amici di Udinese TV, da Vanessa Minotti di Trebi Meteo, ci attene una giornata di lunedì ben soleggiata in un contesto di stabilità atmosferica, sul Friuli, Venezia, Giulia, ma con clima freddo in mattinata, temperature massime invece in aumento. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Udine e Pordenone, come vedete il sole sarà il protagonista, con cieli ovunque sereni. In mattinata, come vedete, le temperature minime saranno prossime allo zero, attenzione quindi anche alla possibilità di locali gelate. Temperature massime superiori ai 10 gradi. E diamo un accenno anche alla situazione attesa tra Trieste e Gorizia, che sarà praticamente analoga. Il contesto sarà ancora caratterizzato da condizioni di stabilità con solo qualche innocuo annuvolamento di passaggio. Temperature minime intorno allo zero su Gorizia, 4 gradi su Trieste. Temperature massime, lieve aumento, ma che non supereranno i 10-13 gradi. La ventilazione a tratti sarà moderata sulle coste con mari localmente poco mossi. Con questo per il momento è tutto, ma per saperne di più, restate aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo. Grazie a tutti.